capitolo 8 ebbero infatti inizio queste famose assemblee fin dal mattino del giorno di quel solenne avvenimento tutti gli abitanti del luogo si fecero sulla porta di casa per occuparsi dei preparativi la facciata del municipio era stata decorata con ghirlande ed edera in un prato avevano montato una tenda per il banchetto e in mezzo alla piazza davanti alla chiesa una specie di bombarda avrebbe sottolineato l'arrivo del signor prefetto e i nomi degli agricoltori premiati la guardia nazionale di Bouchy non esisteva un distaccamento a Yonville si era giunta ai pompieri il cui comandante era Binet quest'ultimo portava quel giorno un colletto ancora più alto del solito e stretto nell'uniforme teneva il busto tanto rigido e immobile da dare l'impressione che tutta la vitalità della sua persona fosse discesa nelle gambe le quali si alzavano in cadenza in un'andatura marziale e con un unico movimento sembrava che esistesse una sorta di rivalità fra l'esattore e il colonnello desiderosi entrambi di mostrare la propria abilità facevano manovrare gli uomini ciascuno dalla propria parte si vedevano passare alternativamente le spalline rosse e le cravate nere e tutto ciò continuava senza interruzione non si era mai visto un simile sfoggio di solennità molti cittadini il giorno prima avevano lavato le proprie case dalle finestre socchiuse pendevano drappi tricolori tutte le osterie erano gremite e dato il bel tempo le cuffie inamidate sembravano più bianche della neve le croci d'oro scintillavano in pieno sole e gli scialli variopinti punteggiavano e screzziavano la scura monotonia di quella distesa di finanziere e di camiciotti da lavoro blu le fattoresse dei dintorni scendendo da cavallo toglievano la grossa spilla mediante la quale tenevano la gonna stretta e rimboccata intorno al corpo per timore che si inzaccherasse mentre i mariti per salvaguardare i propri cappelli li coprivano invece con un fazzoletto da tasca serrandone un angolo fra i denti la folla seguendo la strada maestra arrivava dalle due estremità del villaggio si riversava dai vicoli, dai viali, dalle case e di tanto in tanto si sentivano ricadere i picchiotti delle porte dietro le signore in guanti di filo che uscivano per andare a vedere la festa la gente ammirava soprattutto due alti cunei coperti di lampioncini che fiancheggiavano la tribuna dove avrebbero preso posto le autorità contro le quattro colonne del municipio si trovavano altrettante specie di aste ciascuna con un piccolo stendardo di tela verdastra in cima arricchito da scritte dorate su uno di essi si leggeva al commercio su un altro all'agricoltura sul terzo all'industria e sull'ultimo alle belle arti ma il giubilo che rallegrava ogni volto sembrava rattristare la signora Lefrançois l'albergatrice in piedi sulla soglia della cucina ella mormorava fra sé e sé che bestialità che bestialità quella loro baracca di tela credono forse che il prefetto sarà soddisfatto di mangiare laggiù sotto una tenda come un saltimbanco e chiamano questo pasticcio fare il bene del paese non valeva proprio la pena di andare a cercare un taverniere a Neuf-Châtel e per chi poi? per dei bovari per dei villani senza scarpe passò il farmacista indossava una giacca nera e pantaloni cachi portava scarpe di castoro e cosa straordinaria un cappello a cupola bassa servo suo? disse mi scusi ho premura e siccome la grossa vedova gli domandava dove andasse rispose le sembrerà ridicolo vero? io che resto chiuso nel mio laboratorio come il topo di quel tale nel formaggio quale formaggio? fece l'albergatrice no niente non ci faccia caso rispose Romè volevo dire solo signora Lefrançois che me ne sto di solito rintanato per conto mio oggi però data la circostanza bisogna proprio che ah va anche lei laggiù? disse la signora Lefrançois con aria sprezzante certo che ci vado replicò lo speziale stupito non faccio forse parte della commissione consultiva? mamma Lefrançois lo squadrò per qualche minuto e finì per rispondergli con un sorriso ma allora è un'altra cosa e da quando in qua si occupa di coltivazioni? se ne intende dunque? ma sicuro me ne intendo perché sono farmacista vale a dire chimico e poiché la chimica signora Lefrançois studia le azioni reciproche e molecolari di tutti i corpi esistenti in natura ne consegue che l'agricoltura si trova a essere compresa nel suo campo di interessi infatti la composizione dei concimi la fermentazione dei liquidi l'analisi dei gas e le influenze dei miasmi che cosa è mai tutto questo io le domando se non chimica pura e semplice l'albergatrice non disse nulla Homè continuò per essere agronomo crede forse sia indispensabile aver lavorato personalmente la terra o aver allevato polli è più necessario conoscere la composizione delle sostanze che si maneggiano i giacimenti geologici l'azione dell'atmosfera la qualità del terreno dei minerali delle acque la densità dei diversi corpi e la loro capillarità che so io bisogna avere una profonda conoscenza di tutti i principi genici per dirigere e giudicare la costruzione degli edifici il governo degli animali e l'alimentazione dei domestici e non basta signora Lefrançois bisogna conoscere la botanica per distinguere le piante una dall'altra capisce? quelle medicinali da quelle velenose le improduttive dalle utili se è buona cosa sradicarle da un posto per trapiantarle in un altro distruggere le une e diffondere le altre in breve bisogna tenersi al corrente dei progressi della scienza leggendo libri e pubblicazioni darsi d'attorno senza respiro per conoscere i miglioramenti e indicarli agli altri l'albergatrice non distoglieva un momento gli occhi dalla porta del caffè francese e il farmacista continuò volesse iddio che i nostri agricoltori fossero dei chimici o almeno che ascoltassero un po' di più i consigli della scienza così io ho scritto ultimamente un sostanzioso opuscolo un prontuario di oltre 72 pagine intitolato la lavorazione e gli effetti del sidro con nuove osservazioni relative all'argomento e l'ho mandato alla società d'agronomia di Rouen questo mi ha procurato l'onore di essere accolto fra i suoi membri sezione agricoltura classe frutticultura ebbene se la mia opera fosse stata divulgata ma a questo punto lo speziale si interruppe tanto la signora Lefrançois sembrava preoccupata ma guardi un po' disse l'albergatrice non ci capisco più niente un abetto la simile e alzando le spalle fino a stirare sul davanti la maglia del corsetto indicava con ambe le mani il locale del suo antagonista dal quale usciva in quel momento un suono di canti del resto non ne avrà per molto soggiunse fra meno di otto giorni tutto sarà finito Romè indietreggiò per lo stupore la signora Lefrançois discese tre gradini e parlandogli all'orecchio mormorò ma come ancora non lo sa questa settimana gli faranno il sequestro è stato l'heureux a farlo fallire lo ha assassinato con le cambiali lo stessa cominciò allora a raccontargli tutta la storia era venuta a saperla da Teodoro il domestico del signor Guillaumaine e per quanto detestasse Teglié non poteva far a meno di biasimare l'heureux era un imbroglione e una rivista ah guardi disse eccolo là sotto la tettoia del mercato sta salutando la signora Bovary che ha un cappellino verde e dal braccio al signor Boulanger la signora Bovary fece omè devo correre a porgerle i miei omaggi forse le farebbe piacere avere un posto nel recinto sotto il colonnato e senza più ascoltare mamma Lefrançois che lo chiamava per finirgli di raccontare il fatto il farmacista si allontanò a passi rapidi con il sorriso sulle labbra e i garretti tesi distribuendo a destra e a manca grandi saluti e occupando molto posto con le ampie falde dell'abito nero che sventolavano al vento dietro di lui Rodolf avendo lo scorto da lontano si era messo a camminare in fretta ma la signora Bovary mancava il respiro ed egli rallentò dicendole senza perifrasi volevo evitare quell'uomo sa lo speziale Emma gli diede di gomito che significa si domandò lui e la guardava con la coda dell'occhio continuando a camminare il profilo di lei era così placidamente inespressivo da non lasciare indovinare nulla si stagliava in piena luce circondato dall'ala del cappellino guarnito di nastri chiari simili a foglie di giunco gli occhi dalle lunghe cigliari curve guardavano dinanzi a sé e per quanto li tenesse bene aperti davano l'impressione di perdere un poco del loro risalto a causa del sangue che le arrossava le gote pulsando dolcemente sotto la pelle sottile una riga rosea le segnava il setto nasale teneva il capo reclinato su una spalla e fra le labbra socchiuse si vedeva la punta madreperlacea dei denti candidi si burla di me pensava Rodolf il gesto di Emma non aveva voluto essere altro se non un avvertimento poiché accanto a loro c'era il signor l'heureux che di tanto in tanto si voltava parlando nella loro direzione quasi volesse attaccare discorso abbiamo una giornata meravigliosa tutti sono usciti il vento soffia da est e la signora Bovary come del resto Rodolf non rispondeva nulla mentre lui a ogni più piccolo cenno si avvicinava un poco dicendo come e portando la mano al cappello quando furono dinnanzi alla casa del maniscalco invece di seguire la strada fino alla barriera Rodolf voltò bruscamente in un sentiero trascinando la signora Bovary e gridando buonasera signor l'heureux arrivederci che modo di congedarlo disse Emma ridendo perché consentire agli altri di essere invadenti ribatté lui e proprio oggi poi che ho il piacere di stare con lei Emma arrossì Rodolf non terminò la frase e si mise a parlare del bel tempo e del piacere di camminare sull'erba qua e là erano spuntate le margherite guardi quante graziose pratoline disse sufficienti a dare una risposta agli interrogativi di tutti gli innamorati del paese soggiunse se ne cogliessi io che cosa penserebbe è forse innamorato domandò Emma e fu presa da una tossettina eh chi lo sa rispose Rodolf il prato cominciava ad affollarsi e le massaie urtavano i vicini con i grandi parapioggia i panieri e i ragazzini spesso bisognava spostarsi davanti a lunghe file di contadine di servette dalle calze azzurre con scarpe senza tacco con anelli d'argento sapevano di latte quando si passava loro accanto camminavano tenendosi per mano e occupavano così tutta la larghezza del prato dal filare dei pioppi fino alla tenda del banchetto in quel momento venivano giudicati i capi di bestiame e i contadini uno dopo l'altro entravano in una specie di pista delimitata da una lunga corda sorretta da paletti le bestie erano là dentro con il muso verso la corda allineate confusamente in gruppi disuguali i porci mezzo addormentati affondavano il grugno nella terra i vitelli muggivano le pecore belavano le mucche con le gambe piegate appoggiavano sull'erba al ventre ruminando ad agio e chiudendo le palpebre grevi infastidite dai mosconi che ronzavano loro attorno alcuni carrettieri a braccia nude trattenevano per la cavezza gli stalloni impennati che emettevano sonori nitriti in direzione delle giumente queste ultime rimanevano impassibili allungando la testa e lasciando ricadere la criniera mentre i puledri si riposavano all'ombra delle madri e di tanto in tanto poppavano sulla lunga ondulazione delle groppe robuste si levava al vento qua e là simile alla cresta di un'onda una criniera bianca oppure spuntavano corna appuntite o teste di uomini che correvano più in là al di fuori del recinto cento passi lontano vi era un toro con la museruola e un grande anello di ferro alle narici immobile come se fosse di bronzo un ragazzo vestito di cenci lo teneva con una corda intanto alcuni signori venivano avanti fra le due file a passo lento esaminando ogni animale e consultandosi a bassa voce uno di essi quello che sembrava essere il più autorevole camminando prendeva qualche appunto su un taccuino era il presidente della giuria il signor de Roseret della Panville non appena riconobbe Rodolphe venne in fretta verso di lui e gli disse sorridendo amabilmente ma come signor Boulanger ci abbandona? Rodolphe protestò che stava proprio per raggiungerli ma quando il presidente si fu allontanato no davvero disse non ci andrò affatto preferisco di gran lunga alla sua la compagnia di una signora come lei e facendosi beffe di tutte le assemblee Rodolphe per potersi aggirare con tutta comodità mostrò al gendarme la tessera azzurra e si fermò talvolta davanti a qualche bel esemplare che la signora Bovary non mostrava in alcun modo di ammirare egli se ne accorse e allora cominciò a dire spiritosaggini sulle signore di Yonville a proposito del loro abbigliamento approfittandone per scusare la trascuratezza del proprio infatti il suo modo di vestire manifestava quell'incoerente accostamento di cose comuni e ricercate che di solito fa credere al volgo esasperandolo e seducendolo di intravedervi i segni dell'esistenza eccentrica e del disordine sentimentale di un individuo soggetto alla tirannia dell'arte e al contempo sprezzante delle convenzioni sociali infatti la camicia di Battista dai pulsini plissettati si gonfiava secondo il capriccio del vento fuori dalla scollatura del panciotto di traliccio grigio e i pantaloni a righe larghe scoprivano alle caviglie gli stivaletti di tela cachi con i rinforzi di pelle verniciata così lucidi che l'erba vi si specchiava Rodolf calpestava con essi lo sterco di cavallo una mano in tasca e il cappello di paglia di sghimbescio del resto quando si vive in campagna soggiunse non ne vale la pena disse Emma è vero approvò lui e pensare che non una di queste brave persone capisce qualcosa della linea di un vestito il discorso scivolò quindi sulla mediocrità della provincia delle esistenze che riusciva a soffocare delle illusioni che vi morivano tutto ciò disse Rodolf mi induce a lasciarmi andare a una malinconia tremenda lei disse Emma stupita ma se io la credevo così felice ah sì in apparenza perché quando mi trovo in mezzo alla gente so mettermi sul viso una maschera beffarda e d'altronde più di una volta davanti a un cimitero al chiaro di luna mi sono domandato se non farei meglio a raggiungere quelli che già dormono il sonno eterno oh disse Emma e i suoi amici non ci pensa i miei amici e quali ne ho forse ce n'è qualcuno che si preoccupi di me e accompagnò le ultime parole con una sorta di sibilo delle labbra a questo punto furono costretti a dividersi a causa di una catasta di sedie trasportate da un uomo ne era così stracarico che di lui rimanevano visibili soltanto le punte degli zoccoli e l'estremità delle braccia distese si trattava di l'estibudois il becchino che trasportava in mezzo alla folla le sedie della chiesa pieno di iniziativa per quanto concerneva i suoi interessi aveva scoperto questo sistema per trarre profitto dalle assemblee e la sua idea aveva avuto tanto successo che non sapeva più come fare per accontentare tutti infatti i contadini accaldati si contendevano queste sedie la cui paglia sapeva di incenso e si appoggiavano agli alti schienali imbrattati dalla cera delle candele con una certa venerazione la signora Bovary riprese il braccio di Rodolf ed egli continuò come parlando a se stesso si ho sentito la mancanza di moltissime cose nella vita sono sempre stato solo avessi almeno uno scopo avessi incontrato un affetto avessi avuto vicino qualcuno come avrei volentieri speso tutte le energie di cui sono capace come avrei saputo sormontare ogni ostacolo come sarei riuscito ad abbattere ogni barriera che impedisse il mio cammino eppure interloqui Emma non mi sembra che lei sia poi tanto da commiserare dice fece Rodolf perché in fondo la riprese è libero esitò ricco non si burli di me rispose Rodolf Emma lo assicurò che non si stava affatto burlando di lui e in quel momento rimbombò un colpo di cannone subito tutti si precipitarono in disordine verso il villaggio ma si trattava di un falso allarme il prefetto non era arrivato e i membri della giuria si trovavano nel grave imbarazzo di non sapere se dare inizio alla seduta o aspettare ancora finalmente in fondo alla piazza comparve una grossa carrozza da nolo tirata da due cavalli magri frustati con la massima energia da un cocchiere con in capo un cappello bianco Binet ebbe soltanto il tempo di gridare allarme subito imitato dal colonnello tutti corsero verso i fucili affastellati tutti si precipitarono di qua e di là qualcuno si dimenticò perfino di abbottonarsi il colletto ma l'equipaggio prefettizio parve indovinare lo scompiglio causato con il suo arrivo e la coppia di roze dondolando fra le catenelle giunse al piccolo trotto davanti al colonnato del municipio proprio nel momento in cui la guardia nazionale e i pompieri si allineavano al rullo dei tamburi segnando il passo muovete le braccia gridò Binet alt gridò il colonnello per fila a sinist e dopo un presentat arm nel quale il tintineo delle fascette dei fucili moltiplicandosi risonò con un frastuono simile a quello prodotto da un paiolo di rame che rotoli giù per una scala tutte le armi ricaddero si vide allora scendere dalla carrozza un signore vestito con una giacca corta ricamata d'argento calvo sulla fronte e con una corona di capelli sulla nuca dal colorito pallido e dalla più benigna apparenza gli occhi molto grandi e dalle palpebre pesanti rimasero chiusi a metà per osservare la folla mentre alzava il naso appuntito e atteggiava un sorriso la bocca dalle labbra rientranti riconobbe subito il sindaco per via della fascia e gli comunicò che il signor prefetto non era potuto venire e aveva mandato in sua vece lui un consigliere di prefettura aggiunse poi qualche scusa Tuvasse gli rispose con frasi ossequiose l'altro si dichiarò confuso e i due rimasero così faccia a faccia con le fronti che quasi si toccavano in mezzo ai membri della giuria del consiglio municipale ai notabili alla guardia nazionale e anche alla folla il signor consigliere appoggiandosi al petto un piccolo tricorno nero reiterò i suoi saluti mentre Tuvasse curvo come un arco sorrideva a sua volta balbettava cercava frasi adatte protestava la sua devozione alla monarchia e ringraziava dell'onore che veniva fatto a Yonville Hippolyte il mozzo di stalla dell'albergo venne a prendere per la briglia i cavalli del cocchiere e zoppicando sul piede sciancato li condusse sotto il portico del leon d'oro dove si radunarono molti paesani per contemplare la carrozza il tamburo rullò il mortaio tuonò e le autorità salirono in fila sulla tribuna per sedersi sulle poltrone di velluto rosso prestate dalla signora Tuvasse Tutta quella gente si somigliava i loro visi flaccidi leggermente abbronzati dal sole avevano il colore del sidro dolce con i soffici favoriti che sfuggivano dagli alti colletti rigidi sostenuti da cravate bianche con il nodo ben disteso Tutti i panciotti erano di velluto con il collo a scialle Tutti gli orologi portavano al termine di un lungo nastro uno di quei sigilli ovali di corniola tutti appoggiavano entrambe le mani sulle cosce allargando con cautela il cavallo dei pantaloni di panno apprettato e più lucido del cuoio delle pesanti calzature Le signore della buona società stavano dietro di loro sotto il vestibolo fra le colonne mentre il grosso della folla era accalcato di fronte in piedi o seduto su sedie L'estiboudois infatti aveva portato là tutte quelle che era riuscito a trasportare dal prato e a ogni minuto correva ancora in chiesa a prenderne altre creando un tale ingombro con il suo commercio da rendere quasi impossibile per chiunque arrivare alla scaletta della tribuna secondo me io trovo disse il signor L'Eureux avvicinandosi al farmacista che stava passando per raggiungere il suo posto che avrebbero dovuto innalzare là due alberi di navi di tipo veneziano con qualcosa di severo e di ricco insieme come novità sarebbe stato un bellissimo colpo d'occhio certo rispose Romè ma cosa vuole il sindaco ha disposto tutto da solo non ha molto buon gusto questo povero Tuvache ed è completamente sprovvisto di quella che si chiama sensibilità artistica nel frattempo Rodolphe con la signora Bovary era salito al primo piano del municipio nel salone del consiglio e trovandolo deserto aveva dichiarato che vi si sarebbero trovati benissimo per godersi lo spettacolo con tutto comodo prese tre degli sgabelli situati intorno alla tavola ovale sotto il busto del re e dopo che li ebbe avvicinati a una finestra sedettero uno vicino all'altra vi fu un gran movimento sulla tribuna lunghi conciliaboli e sussurri infine si alzò il signor consigliere nel frattempo si era venuti a sapere che si chiamava Lieuven e il nome veniva ripetuto da questo a quello fra la folla il consigliere appena ebbe riordinato alcuni fogli li avvicinò agli occhi per vedere meglio e cominciò signori mi sia anzitutto concesso prima di intrattenermi sull'argomento della riunione di oggi e il sentimento che voglio esternare sono certo sarà condiviso da tutti voi mi sia concesso dicevo di rendere omaggio alla superiore amministrazione al governo al re signori al nostro sovrano a questo monarca tanto amato al quale nessun aspetto o particolare della pubblica prosperità è indifferente e che regge con una così salda e saggia mano il carro dello Stato in mezzo ai continui pericoli di un mare tempestoso con la capacità d'altronde di far rispettare sia la pace sia la guerra l'industria il commercio l'agricoltura e le belle arti dovrei spostarmi un po' più indietro disse Rodolf perché? domandò Emma ma in quel momento la voce del consigliere crebbe straordinariamente di intensità declamando non è più il tempo signori in cui la discordia civile insanguinava tutte le pubbliche piazze in cui il possidente il negoziante l'operaio stesso addormentandosi di un sonno tranquillo tremava al pensiero di poter essere svegliato dall'improvviso suono delle campane a martello che avvertivano della presenza di un incendio in cui le massime più sovversive minavano apertamente le basi il fatto è che potrebbero vedermi dal basso continuò Rodolf e sarei costretto a passare almeno 15 giorni a scusarmi inoltre con la cattiva reputazione di cui godo oh ma lei si calunnia disse Emma no no è proprio pessima glielo assicuro ma signori continuò il consigliere se allontano dalla mia immaginazione queste fosche visioni e volgo lo sguardo sull'attuale situazione della nostra bella patria che cosa vedo ovunque fioriscono i commerci e le arti ovunque nuove vie di comunicazione simili ad altrettante arterie vitali nel corpo dello Stato vi stabiliscono rinnovati rapporti i maggiori centri manifatturieri hanno ripreso la loro attività la religione rinsaldata nei suoi principi sorride a tutti i cuori i porti sono gremiti la fiducia rinasce e al fine la Francia respira del resto soggiunse Rodolphe forse dal punto di vista della pubblica opinione non hanno nemmeno torto come può essere domandò Emma ma sì disse lui non sa che esistono anime le quali soffrono senza sosta a esse sono necessari alternativamente il sogno e l'azione le passioni più pure e i piaceri più travolgenti e di conseguenza si gettano in ogni sorta di capriccio di follia Emma lo guardò allora come si guarda un viaggiatore che abbia attraversato paesi fantastici e osservò noi povere donne non possiamo permetterci simili distrazioni distrazioni ben tristi poiché in esse non vi è felicità ma esiste la felicità in qualcos'altro? certo si può incontrarla un giorno nella vita ed è questo che voi avete compreso diceva il consigliere voi agricoltori e operai delle campagne voi pionieri pacifici di un'opera di grande civiltà voi uomini del progresso e della moralità voi avete compreso io lo affermo che gli uragani politici sono davvero più temibili delle perturbazioni atmosferiche un giorno la si incontra ripete Rodolf un bel giorno all'improvviso e proprio quando ormai si dispera allora si schiudono nuovi orizzonti ed è come se una voce gridasse eccola si sente il bisogno di confidare a questa persona tutta la propria vita di donarle tutto di sacrificarle tutto non sono necessarie spiegazioni la si riconosce subito la si intravede nei propri sogni e intanto la guardò e finalmente eccolo il tesoro tanto atteso davanti a noi che brilla e risplende eppure ancora non ci si sente sicuri non si ha il coraggio di credervi si resta abbagliati come chi esca dalle tenebre alla luce e Rodolf sottolineò questa frase con una mimica adeguata si passò la mano sul viso quasi si sentisse stordito poi la lasciò cadere su quella di Emma che la ritrasse intanto il consigliere continuava a leggere e chi potrebbe stupirsene signori soltanto chi fosse così cieco così immerso non ho paura a dirlo così immerso nei pregiudizi di un'altra epoca da misconoscere anche ora lo spirito nuovo delle popolazioni agricole infatti dove trovare un patriottismo più grande di quello che si incontra nelle nostre campagne una maggior devozione alla causa pubblica in una parola una più viva intelligenza e non alludo all'intelligenza superficiale vano ornamento di spiriti oziosi ma all'intelligenza profonda ed equilibrata che mira soprattutto a conseguire scopi utili contribuendo in tal modo al bene di tutti al comune progresso e al consolidamento dello Stato frutto del rispetto della legge e dell'assolvimento del proprio dovere ancora disse Rodolphe sempre i doveri sono stufo di questa parola sono un branco di vecchi incapaci in panciotto di flanella e di bigotte con lo scaldino e la corona del rosario continuano a cantarci negli orecchi il dovere il dovere e perbacco il dovere è capire che cosa è grande scegliere il bello non accettare tutte le convenzioni della società con le ignominie che ci impone eppure eppure obiettò la signora Bovary eh no perché inveire contro le passioni non sono forse la cosa più bella esistente sulla terra le sorgenti dell'eroismo dell'entusiasmo della poesia della musica delle arti di tutto in una parola ma bisogna pure disse Emma rispettare l'opinione della gente e obbedire alla morale il fatto è che ce ne sono due obiettò Rodolf la minore quella convenzionale quella degli uomini che cambia senza sosta e sbraita più non posso che si muove in basso terra terra come questa riunione di imbecilli sotto i suoi occhi e l'altra quella eterna che sta tutto intorno a noi e al di sopra di noi come il paesaggio che ci circonda e il cielo azzurro che ci illumina il signor Lievain si asciugò la bocca con il fazzoletto e continuò sarebbe cosa inutile dimostrare qui l'utilità dell'agricoltura infatti chi provvede ai nostri bisogni chi ci fornisce il sostentamento non è forse l'agricoltore l'agricoltore signori che seminando con mano solerte i solchi fecondi dei campi fa nascere il grano il quale macinato e ridotto in polvere per mezzo di ingegnosi macchinari ne esce con il nome di farina viene trasportato in città e ben presto giunge dal fornaio che lo trasforma in un alimento indispensabile al ricco e al povero non è forse l'agricoltore che per fornirci gli abiti alleva nei pascoli le greggi numerose come potremmo vestirci in vero come potremmo nutrirci senza l'agricoltura ed è forse necessario andare così lontano per trovare degli esempi chi non ha mai pensato all'importanza che riveste il modesto animale ornamento dei pollai che ci dà soffici cuscini per i nostri giacigli una carne succulenta e le uova ma non finirei più se dovessi enumerare uno dopo l'altro i diversi prodotti che la terra ben coltivata simile a una madre generosa prodiga ai suoi figli qui le vigne i pometi per il sidro e il ravizzone altrove i foraggi o il lino la cultura del quale in questi ultimi anni ha avuto uno sviluppo considerevole e proprio sul lino vorrei richiamare in particolare la vostra attenzione non era affatto necessario richiamarla perché tutte le bocche della gente rimanevano spalancate come per bere le sue parole Tuvache di fianco a lui lo ascoltava con gli occhi sgranati il signor De Roseret di tanto in tanto chiudeva dolcemente le palpebre e più in là il farmacista con il figlio Napoleone fra le gambe teneva una mano a conchiglia sull'orecchio per non perdere neppure una sillaba gli altri membri della giuria facevano andare lentamente su e giù il mento sui panciotti in segno di approvazione i pompieri ai piedi della tribuna si riposavano appoggiati alle baionette e Binet se ne stava immobile con il gomito in fuori e la punta della sciabola in aria forse ci sentiva ma non doveva vedere nulla per colpa della visiera del chepì che gli arrivava fin sul naso il suo luogotenente il figlio minore del signor Tuvash aveva esagerato ancora di più scegliendo il proprio copricapo ne aveva in testa in precario equilibrio uno enorme che lasciava sfuggire un angolo del fazzoletto di tela stampata postovi sotto il ragazzo sorrideva di là sotto con una dolcezza tutta infantile il viso di lui minuto e pallido regato da gocce di sudore aveva un'espressione giubilante stanca e piena di sonno la piazza era piena di gente fino alle case sull'altro lato tutte le finestre erano gremite di persone affacciate altre stavano davanti in piedi sulle porte e Justine davanti alla vetrina della farmacia sembrava assorto nella contemplazione di ciò che stava guardando per quanto regnasse un relativo silenzio la voce del signor Lieuven si perdeva nell'aria se ne afferravano brandelli di frasi interrotti di tanto in tanto dal rumore delle sedie smosse fra la gente poi d'improvviso capitava di sentire alle proprie spalle un lungo muggito o il belato degli agnelli che si rispondevano dagli angoli delle vie infatti bovari e pastori avevano spinto le proprie bestie fin lì ed esse di tanto in tanto facevano sentire il loro verso mentre cercavano di catturare con la lingua qualche po' d'erba che pendeva loro dal muso Rodolphe si era avvicinato a Emma e le diceva in un rapido sussurro questa congiura dei benpensanti non le ripugna e fosse un solo sentimento a essere condannato ma sono gli istinti più nobili le più pure simpatie a essere perseguitate e calunniate e se due povere anime finalmente si incontrano tutto trama perché non possano unirsi eppure esse tenteranno batteranno le ali si chiameranno e non importa se presto o tardi fra sei mesi o dieci anni riusciranno a unirsi e ad amarsi perché il destino ha stabilito così e perché sono nate per incontrarsi stava con le braccia incrociate sulle ginocchia e levando il viso verso Emma la guardava da vicino fissamente la signora Bovary vedeva nei suoi occhi pagliuzze dorate intorno alle pupille nere e sentiva il profumo della pomata che gli rendeva lustri i capelli si sentì presa dall'anguore ricordò il visconte che le aveva fatto ballare il valser alla VBSR la barba di lui che emanava lo stesso profumo di vaniglia e di limone dei capelli di Rodolphe e senza volerlo socchiuse le palpebre per aspirarlo meglio ma il movimento per drezzarsi sulla sedia che si trovò a compiere le fece scorgere lontano all'orizzonte la rondine la vecchia diligenza che scendeva lentamente il colle di Le trascinandosi dietro un lungo pennacchio di polvere proprio su questo veicolo giallo Leon era tornato tante volte da lei e proprio per quella strada laggiù se n'era andato per sempre le sembrò di vederselo davanti affacciato alla finestra poi tutto si confuse le nubi passarono le sembrò di volteggiare ancora nel valser sotto le luci dei lampadari fra le braccia del visconte le sembrò che Leon non fosse lontano che stesse per arrivare e nello stesso momento fu conscia della testa di Rodolphe accanto a lei la dolcezza di questa sensazione si mescolava con i sogni di un tempo e questi ultimi come granelli di sabbia a un colpo di vento turbinarono nel soffio sottile del profumo che le pervadeva l'animo dilatò le narici più volte per aspirare profondamente la fragranza dell'edera disposta attorno ai capitelli si tolse i guanti e si asciugò le mani poi si fece vento al viso con il fazzoletto ascoltando attraverso il pulsare delle tempie il brusio della folla e la voce del consigliere che salmodiava le sue frasi l'oratore stava dicendo continuate perseverate non ascoltate la suggestione delle abitudini né i consigli troppo azzardati di un empirismo temerario adoperatevi per rendere più fertili i terreni per avere buoni concimi per il miglioramento delle razze di cavalli di buoio vini e suini che queste assemblee siano per voi simili ad arene pacifiche ove il vincitore tende la mano al vinto e fraternizza con lui nella speranza di sempre più grandi successi e voi venerabili servitori umili domestici il cui penoso lavoro non è stato fino ad oggi preso in considerazione da alcun governante venite a ricevere la ricompensa delle vostre silenziose virtù e convincetevi che ormai lo Stato tiene gli occhi fissi su di voi che vi incoraggia vi protegge renderà giustizia alle vostre rivendicazioni e alleggerirà per quanto gli è possibile il fardello dei vostri penosi sacrifici il signor Lueven a questo punto si rimise a sedere si alzò allora il signor De Rosre e cominciò un altro discorso non fu forse fiorito come quello del consigliere ma si fece apprezzare per le argomentazioni più positive per una competenza più specializzata e per considerazioni di maggior rilievo l'elogio al governo fu per conseguenza più breve e ne risultarono avvantaggiate l'agricoltura e la religione furono presi in esame i rapporti fra l'una e l'altra e il loro costante contributo al progresso della civiltà Rodolf e la signora Bovary parlavano di sogni presentimenti magnetismo risalendo alle origini della società l'oratore descriveva le epoche primitive in cui l'uomo si nutriva di ghiande e viveva nei boschi parlò poi di come si fosse spogliato delle pelli di animali per indossare vesti di stoffa di come avesse cominciato a scavare solchi e a coltivare le viti tutto ciò era stato un bene o in queste scoperte vi erano più inconvenienti che vantaggi il signor de Rosrè si poneva questo problema dal magnetismo Rodolf era arrivato alle affinità e mentre il presidente citava Sinsinnato e il suo aratro Diocleziano che piantava cavoli e l'imperatore della Cina che inaugurava l'anno nuovo con le seminagioni il giovane spiegava alla signora come le attrazioni irresistibili debbano la loro origine a qualche esistenza precedente Noi due per esempio diceva perché ci siamo conosciuti quale fatto lo ha voluto come due fiumi che scorrono attraverso lontane regioni per ricongiungersi certo a nostra volta siamo stati spinti lungo la china della vita l'uno verso l'altra e riprese la mano di lei che non la ritirò un insieme di colture produttive gridò il presidente poco fa per esempio quando sono venuto da lei al signor Binet di Quincampois sapevo forse che l'avrei accompagnata 70 franchi 100 volte sono stato deciso ad andarmene ma senza saperlo la seguivo e sono rimasto concimi così come non me ne andrò stasera domani i giorni a venire tutta la vita al signor Caron d'Argueil una medaglia d'oro perché non ho mai trovato in nessuna donna un fascino irresistibile come quello che lei possiede al signor Ben di Givry Saint-Martin così gli osserberò il suo ricordo per un montone merino mi dimenticherà passerò come un'ombra al signor Belot di Notre Dame oh no ma io rappresenterò qualcosa nei suoi pensieri nella sua vita n'è vero razza suina premio exequo ai signori L'Eri-Sé e Culembour 60 franchi Rodolphe le strinse la mano e la sentì calda e fremente come una tortorella prigioniera bramosa di riprendere il volo ma sia che volesse liberare la mano sia che rispondesse alla stretta Emma fece con le dita un movimento e Rodolphe esclamò oh grazie lei non mi respinge lei è buona ha capito che io le appartengo mi permetta di guardarla di contemplarla un colpo di vento proveniente dalla finestra smosse il tappeto sulla tavola e in basso nella piazza i lembi di tutte le grandi cuffie delle contadine si sollevarono come ali di farfalle bianche palpitanti impiego di panelli di semi oleosi continuò il presidente cominciava ad affrettarsi concime fiammingo coltura del lino irrigazione piantagioni di alberi a lenta crescita per costruzioni navali fedeltà domestica Rodolphe taceva si fissavano un unico desiderio faceva fremere a entrambi le labbra aride e mollemente senza sforzo le loro dita si intrecciarono catherine nissese elisabeth leroux di sassetto la guerriere per 54 anni di servizio nella stessa fattoria una medaglia d'argento del valore di 25 franchi dov'è questa catherine leroux ripeteva il consigliere non si faceva avanti nessuno e si udivano voci che parlottavano vacci no a sinistra non aver paura ah che sciocca insomma c'è o no gridò tu vasce sì eccola venga avanti allora si vide infine avanzare sulla pedana una vecchietta dall'aria spaurita che sembrava cercare di rimpicciolirsi nelle povere vesti calzava grossi scarponi dalla suola di legno e metà della sua figura era nascosta da un grembiulone turchino il viso magro circondato dalla cuffia priva di ala era più segnato dalle rughe di una mela renetta avvizzita e dalle maniche della camicetta rossa uscivano le mani lunghe con articolazioni nodose la polvere dei granai la soda dei bucati il grasso della lana le avevano talmente incrostate logorate indurite da farle sembrare sporche anche dopo essere state lavate e rilavate nell'acqua di fonte rimanevano abbandonate quelle mani quasi in un gesto di rassegnazione come se dopo aver sempre servito gli altri volessero essere esse stesse l'umile testimonianza di tutte le sofferenze sopportate l'espressione del suo viso era caratterizzata da una sorta di impassibilità monacale nulla che potesse somigliare alla malinconia o alla tenerezza addolciva lo sguardo scialbo di quella donna la continua dimestichezza con gli animali le aveva fatto assumere il loro stesso mutismo e la loro placidità per la prima volta le capitava di trovarsi in mezzo a tanta gente la sgomentavano i tamburi le bandiere i signori in abito nero la legion d'onore del consigliere e rimaneva del tutto immobile senza sapere se dovesse farsi avanti o fuggire senza capire perché la folla la spingesse e perché i componenti la giuria le sorridessero in tale atteggiamento quel mezzo secolo di fedeltà domestica se ne stava davanti ai prosperi borghesi si avvicini egregia a Catherine Nissez Elisabeth Leroux disse il consigliere prefettizio che aveva tolto dalle mani del presidente la lista dei premiati e guardando ora i fogli ora l'anziana donna ripeteva in tono paterno venga avanti venga avanti ma è sorda disse Tuvache balzando dalla poltrona e si mise a sbraitarle nell'orecchio 54 anni di servizio una medaglia d'argento 25 franchi è per lei quando ebbe avuto la medaglia la vecchietta l'osservò attentamente e un sorriso di beatitudine le illuminò il viso fu dita a mormorare mentre se ne andava la darò al curato della mia parrocchia perché mi dica delle messe che fanatismo esclamò il farmacista rivolgendosi al notaio la riunione era giunta al termine la folla si disperse e ora che i discorsi erano stati ormai letti ognuno riprendeva al suo posto e ognuno rientrava nella vita abituale di tutti i giorni i padroni rimbrottavano i domestici e questi ultimi se la pigliavano con gli animali gli indolenti trionfatori che se ne tornavano alle stalle con una corona di verzura fra le corna nel frattempo le guardie nazionali erano salite al primo piano del municipio con panini infilzati sulle baionette mentre il tamburino del battaglione reggeva un paniere di bottiglie la signora Bovary si appoggiò al braccio di Rodolphe il quale l'accompagnò a casa si separarono davanti alla porta poi Rodolphe passeggiò solo nel prato in attesa che il banchetto avesse inizio il festino durò a lungo rumoroso con un pessimo servizio i convitati stavano tanto stretti che a fatica potevano muovere le braccia e le strette assi che fungevano da panche minacciavano di rompersi sotto il peso dei commensali mangiarono molto e ognuno faceva il possibile per rifarsi della sua quota parte il sudore scorreva a rivoli su tutti i volti e un vapore lattiginoso simile alla bruma sul fiume in un mattino autunnale ondeggiava sopra la tavola fra le lucerne accese Rodolphe con la schiena addossata al telo della tenda pensava con tanta intensità a Emma da non accorgersi di nulla dietro di lui sull'erba i domestici accatastavano pile di piatti sporchi i vicini chiacchieravano gli riempivano il bicchiere ma lui non rispondeva e un gran silenzio si faceva nella sua mente sebbene il frastuono divenisse sempre più intenso pensava a quello che Emma aveva detto al disegno delle sue labbra il viso di lei come in uno specchio magico brillava sulle placche dei chepi senza visiera le pieghe del suo abito si drappeggiavano sui muri e innumerevoli giornate d'amore si preannunciavano per l'avvenire la rivide quella sera stessa durante i fuochi d'artificio ma era in compagnia del marito della signora Homet e del farmacista il quale si preoccupava molto per il pericolo costituito dai razzi che deviavano accidentalmente e di continuo lasciava la compagnia per andare a fare raccomandazioni a Binet gli apparati pirotecnici inviati all'indirizzo del signor Tuvash erano stati chiusi per un eccesso di precauzione nella cantina della casa e così la polvere umida non voleva saperne di accendersi la parte più spettacolare costituita da un drago che si mordeva la coda fu un fiasco completo di tanto in tanto partiva una misera candela romana e allora dalla multitudine a bocca aperta si alzava un clamore al quale si mescolavano i gridolini delle donne cui qualcuno aveva solleticato la vita grazie all'oscurità Emma silenziosa si rannicchiava contro la spalla di Charles con il mento alzato seguiva nel cielo nero la scia luminosa dei razzi Rodolphe la contemplava alla luce dei lampioncini accesi questi ultimi a poco a poco si spensero le stelle scintillarono caddero poche gocce di pioggia Emma si annodò una sciarpa sul capo scoperto in quel momento la carrozza chiusa del consigliere di prefettura uscì dall'albergo il cocchiere ubriaco si addormentò subito e si vedeva di lontano al di sopra della cappotta fra le due lanterne la massa del suo corpo che si dondolava di qua e di là a seconda delle oscillazioni dei cignoni in verità disse lo speziale bisognerebbe essere severissimi contro l'ubriachezza vorrei che tutte le settimane sulla porta del municipio comparisse l'elenco dei nomi di coloro che in quel periodo si sono intossicati con l'alcol in questo modo dal punto di vista statistico ci si troverebbe a disporre di una specie di annali veri e propri documenti che in caso di necessità ma scusate e corse di nuovo verso il capitano questi stava rincasando era ansioso di rivedere il suo tornio forse farebbe bene gli disse Ome a mandare uno dei suoi uomini o ad andare lei stesso mi lasci in pace rispose l'esattore non c'è nessun pericolo state tranquilli disse lo speziale non appena fu di nuovo insieme con gli amici il signor Binet mi ha assicurato che tutte le misure necessarie sono state adottate nessuna favilla è stata perduta di vista e le pompe degli incendi sono piene possiamo andare a dormire era ora ne ho proprio bisogno disse la signora Ome che continuava a sbadigliare ma non importa abbiamo avuto per la festa una magnifica giornata Rodolphe ripetè con una voce bassa e lo sguardo tenero oh sì davvero bella e dopo essersi salutati si voltarono le spalle due giorni dopo sul faro di Rouen apparve un lungo articolo sulle assemblee Ome lo aveva scritto di getto il giorno successivo perché questi festoni i fiori le ghirlande dove sta correndo la folla simile ai flutti di un mare in burrasca sotto i raggi di un sole tropicale che riversa il suo ardore sopra i nostri campi proseguiva parlando della situazione dei contadini certo il governo faceva molto ma non ancora abbastanza coraggio incitava ci sono mille riforme indispensabili attuiamole poi accennando all'arrivo del consigliere non trascurava alcun particolare né l'aria marziale delle nostre milizie né le vivaci contadinelle e neppure i vegliardi dalla testa calva veri patriarchi presenti alla cerimonia alcuni dei quali veterani delle nostre falangi mortali che sentivano battere ancora in fretta al cuore al virile suono dei tamburi citava al proprio fra i primi nomi di coloro che formavano la giuria e ricordava perfino in una nota che il signor Homè farmacista aveva inviato un opuscolo sul sidro alla società d'agricoltura giunto alla distribuzione dei premi dipingeva la gioia dei prescelti con accenti di tirambici i fratelli abbracciavano i fratelli i padri i figli gli sposi e le spose più d'uno mostrava con orgoglio la propria umile medaglia e di certo appena tornato a casa accanto alla fedele compagna della sua vita avrà appeso con le lacrime agli occhi l'ambito trofeo alle modeste pareti della sua capanna verso le sei un bacchetto organizzato sul prato del signore Ligard ha riunito i più autorevoli partecipanti alla festa la più grande cordialità ha regnato senza interruzioni sono stati pronunciati numerosi brindisi il signor Liouven al re il signor Tuvash al prefetto il signor Derosire all'agricoltore il signor Homè all'industria e alle belle arti queste due sorelle il signor Lepliché al progresso la sera un rutilante fuoco d'artificio ad improvviso illuminato il cielo un vero caleidoscopio di colori uno scenario d'opera e per un momento il nostro piccolo paese ha davvero creduto di essere trasportato nel bel mezzo di un sogno da mille e una notte è doveroso sottolineare che nessun evento increscioso ha turbato questa riunione familiare e aggiungeva è stata però notata l'assenza del clero certo le sagrestie intendono il progresso in un altro modo liberissimi di farlo signori di Loyola grazie a tutti Grazie a tutti.